Le terme di Buario sono un moderno centro benessere dove rigenerare corpo e mente, con trattamenti e massaggi personalizzati. I trattamenti di eccellenza delle nostre terme sono i fanghi e i massaggi termali. I 150 anni di esperienza e i 4000 massaggi che ogni anno effettuiamo fanno di terme di Buario un'eccellenza nel settore. Il fango delle terme di Buario è l'unione di argilla e acqua termale, le cui proprietà sono indispensabili per il benessere del nostro corpo. Le docce emozionali. Bagno turco. Sauna finlandese. Zona relax.